Il Tar della Toscana ha bloccato la gara per il trasporto pubblico alla quale avevano partecipato Autolinea Toscane facendo capo alla francese RATP e Mobit, il consorzio di aziende toscane di cui fa parte TM. La gara vinta da Autolinea Toscane non dovrà essere rifatta, lo dice il Tar stesso e lo hanno confermato il presidente Enrico Rossi e l'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli durante una conferenza stampa che si è tenuta a Firenze. Il Tar ha però sottolineato che i piani economici e finanziari presentati da due raggruppamenti non erano ben fatti ed è per questo che la procedura è stata bloccata con la sentenza. A questo punto la regione toscana chiederà a Mobit, Autolinea Toscane, di ripresentare i loro piani economici che saranno nuovamente valutati dalla Commissione. Sarà proprio l'esito di questa valutazione a determinare il vincitore della gara. Al termine dell'incontro con la stampa l'assessore trasporti Vincenzo Ceccarelli ha voluto ricordare che comunque la Toscana non resterà a guardare durante l'attesa degli esiti giudiziari della gara. In attesa dei 2.500 nuovi autobus che sono legati al contratto con il nuovo gestore, ha detto Ceccarelli, abbiamo comunque deciso di aiutare le attuali aziende di trasporto a sostenere la qualità del servizio. Dunque tra poche settimane emetteremo un bando da 8 milioni di euro come cofinanziamento per l'acquisto di nuovi bus, ha sottolineato Ceccarelli. Un bando che non è assolutamente collegato alla gara ma darà una boccata di ossigeno a chi sta garantendo il servizio attuale con mezzi sempre più vecchi, con l'auspicio che nel giro di pochi mesi il percorso della gara unica finalmente si chiuda e si possa procedere alla firma del contratto con il nuovo gestore.